Tra poco si darà il calcio d'avvio, tra poco, quindi i preparativi del match. Io mi soffermerei con Tarcisio Mazzeo e in particolare su uno striscione che è apparso in Curva Nord, il feudo del tifo interista, uno striscione che va letto prima e interpretato poi perché significa molte cose. Sì, uno striscione importante è la capacità della gente dello sport di ricordarsi di chi sta soffrendo per situazioni di grande ingiustizia. Chico Forti e Free dice lo striscione della Curva dei tifosi nerazzurri, Chico Forti e i nostri ascoltatori sicuramente molti di loro sapranno, è un caso giudiziario, è un uomo di sport, è un uomo anche di impresa che ha avuto il coraggio anni fa di andare a dare, a cercare di dare un futuro, la sua passione per il windsurf, per il surf si trasferì in America, ha avuto fortuna, poi alla fine le cose hanno preso una brutta piega. La sua passione per il giornalismo e per l'investigazione lo portò a intrigarsi un po' nell'omicidio di Gianni Versace e questo dice chi gli è vicino gliel'hanno fatta pagare perché lo hanno coinvolto. Questo dice un fronte di opinione molto nutrito, molto ben argomentato e insomma impegnato da anni, lo hanno coinvolto in un omicidio che lui non ha commesso e lo hanno strappato alla sua famiglia, condannato all'ergastolo senza alcuna prova con una inchiesta condotta in modo assolutamente donzinale. Da anni aspetta giustizia, da anni la sua famiglia, chi gli è vicino, i suoi amici di Trento, la città di cui è originario, tutti quanti i suoi amici si battono perché abbia un processo giusto. E lo dice anche la curva di San Siro come in altre circostanze, la gente dello sport sa trovare le parole giuste per dire siamo vicini a chi sta soffrendo per aver subito dell'ingiustizia.